I nuovi positivi al covid in provincia di Arezzo nelle ultime 24 ore sono 1029. In tutta la ASL Toscana Sud-Est si sono verificati 2590 nuovi casi. Purtroppo ci sono anche due decessi nell'aretino. Si tratta di un uomo di 79 anni vaccinato e con gravi pregresse e patologie e un altro di 64 non vaccinato anch'esso con patologie. Entrambi erano ricoverati all'ospedale San Donato. Per quanto concerne il dato ospedaliero, i pazienti ricoverati in bolla covid oggi sono 39 il 65% di loro non è vaccinato. Mentre quelli in terapia intensiva covid sono 11, anche in questo caso il 65% non è vaccinato. I guariti di oggi sono 1.300, attualmente sono 7.665 le persone in carico all'ASL perché positive al covid 2.900 coloro che si trovano in quarantena perché contatto di caso.